a santa petroburgo il sconstrueva un venezia de glacia il pro augurasse un buon fortuna economico un bel porto di glacia tutto coperito per moneta Sancte Petroburgo in Iberno Questa è la fluma e neve completamente glaciata e vediamo un po' dei muri della fortalezza di Petro e Paolo e le città in fronte a noi, un po' parve questo è uno dei molti ponti per la neve e in fronte a noi vediamo una nave che è spaccata io non credo che lo naviga nel mare è spaccata anche e funziona come un ristorante grazie